A Chieti, dopo due anni di stop causa pandemia, tornano le sportia di evento organizzato dallo XI Centro Sportivo Italiano. Undicesima edizione dal 20 giugno al 19 luglio e poi dal 27 agosto all'8 dicembre. Tante le discipline, atletica leggera e corse, tornei di calcio a 5, a 7, ad 8 e a 11, pallacanestro, pallavolo, ciclismo, mountain bike, tennis e tennis tavolo, palatamburello, tam green, calcio balilla. Non solo, anche eventi culturali con giochi popolari ed eventi ricreativi. Mimmo Puracchio, presidente provinciale, XI Chieti. Quest'anno ancora di più con l'aiuto di Antonio Di Giosafate abbiamo messo dentro una serie di eventi importanti che sono attività culturali con teatro, musica ed altre attività. Tante le discipline, io ne leggo una, sinceramente sono ignorante in materia e quindi chiedo a lei, tam green si pronuncia così? Tam green perché la pallatamburello è il tam volley, il tam beach, quando si fa sulle spiagge. Siccome noi non abbiamo le spiagge a Chieti, abbiamo per esempio un bellissimo impianto del CSI nella parrocchia dei dodici apostoli a Chieti Scalo dove oltre al calcio a 5 abbiamo previsto anche le buche per poter mettere la rete della pallavolo. Quindi là prevediamo un torneo di tam volley, tam beach con la pallatamburello. Il 19 luglio invece che cosa accadrà? Accadrà che in collaborazione con il CSI che è dentro la rete di Libera abbiamo pensato di organizzare un torneo sportivo che sia anche l'occasione per riflettere insieme con la città sul legame che tiene insieme i valori dello sport e quelli della memoria nella direzione naturalmente di costruire nel tempo in continuità dei percorsi di impegno e di responsabilità per il sociale soprattutto. Quindi il nostro intento è quello di lavorare insieme alla costruzione di una proposta che possa chiamare la città ad un'attenta riflessione intorno a questa data importante per la storia del nostro paese. 30 anni dalla strage di Via D'Amelio. 30 anni dalla strage di Via D'Amelio. L'occasione anche per ricordare tutte le persone che sono state uccise quel 19 luglio del 1992. Anche perché Borsellino si dilettava? Molto, sì. Borsellino era uno sportivo e quindi anche in considerazione di questa passione personale abbiamo voluto sulle nostre gambe, perché questo è il titolo che daremo alla nostra iniziativa, continuare quelle passioni.